Milena Bertolini comincia il 2018 della nazionale maggiore femminile, sabato a Marsiglia l'amichevole con la Francia il primo impegno contro un avversario importante, con qualche assenza, con molte giovani, quale indicazioni si aspetta da questo match? È una partita accattivante, è una partita bellissima da giocare perché giochiamo contro una delle migliori squadre al mondo, abbiamo qualche defezione ma fa parte del gioco, mi piace pensare a un gruppo di 23 giocatrici, è l'opportunità per vedere anche delle giovani di prospettiva, giovani che hanno talento per capire il loro livello, mi aspetto una partita bella, emozionante. Arriviamo a questa amichevole dopo l'ottimo percorso fin qui condotto nelle qualificazioni mondiali, 4 partite, 4 vittorie, 10 gol fatti e nessun gol subito, un piccolo bilancio di questa prima parte, ha ottenuto ciò che voleva al di là del risultato? Il risultato è importante perché fare 12 punti in 4 partite è molto importante perché dobbiamo essere molto pragmatiche, nel senso che l'obiettivo nostro è provare ad andare in mondiali, quindi fare punti è fondamentale. Devo dire che questi punti sono arrivati soprattutto attraverso un grande spirito di squadra, un spirito di gruppo, una grande motivazione da parte delle ragazze e da grande entusiasmo. Quindi questi sono aspetti importanti perché credo siano le fondamenta per poter fare bene. A volte abbiamo fatto buone prestazioni, a volte meno ma per quelle ci vuole un po' di tempo. Dopo la Francia, Cyprus Cup, poi torneremo alle qualificazioni mondiali con la sfida importantissima, uno spareggio di fatto per la qualificazione mondiale a Ferrara contro il Belgio. Che cosa prevede il suo percorso dal punto di vista della crescita del gruppo in avvicinamento al match di Ferrara? La scelta di fare un amichevole con la Francia va proprio in questa direzione, nel senso di sperimentarci con le squadre più forti, perché il Belgio è una squadra forte e la partita con la Francia, poi allo stesso tempo la partita che faremo nel torneo di Cipro, che ormai sta diventando un torneo importante, con squadre importanti, ci permetterà di fare esperienza e di crescere e credo che sia il percorso più adatto e migliore per arrivare a questa grande partita con il Belgio, che è una poi delle altre quattro partite che ci mancano. Quindi insomma quella è una partita importante ma non sarà determinante. Nelle prime gare si è vista una grande solidità difensiva e insomma la casella zero per quanto riguarda i coli incassati conferma questo, ma anche una squadra molto abile nello sviluppare la manovra sulle fasce sfruttando degli ottimi esterni che abbiamo a disposizione. Innanzitutto l'aspetto della fase difensiva, del fatto di finire ad aver preso pochi gol, va reso merito a tutta la squadra, tutta non solamente alla difesa ma proprio all'atteggiamento di tutta la squadra perché gli attaccanti sono i primi ad aiutare e quindi questo è lo spirito di squadra che dicevo importante. Poi è chiaro che dobbiamo cercare di esaltare le qualità delle nostre giocatrici, delle giocatrici che hanno talento e quindi cercare come mister, insomma io e il mio staff, di mettere le condizioni migliori dei ragazzi di potersi esprimere.